A presto Il Pino A presto A presto A presto E' un pioce A presto A presto A presto A presto A presto A presto Sì ragazzi da Ritida P.87 Siamo qua a Valet, un partito per SherpaShape e siamo in aereo, siamo poi a decollare e dopo le dobbiamo iniziare, ci vediamo a Shah! Ciao a tutti ragazzi, sono da EnriciBdebon97, stamattina mi sono svegliato, sono andato a fare collezione e questa volevo fare un tour di tutta la casa Allora, ci siamo appena svegliati, no? Quindi un po' disfatti, al mattino poi rifanno tutte le decorazioni, bello Allora, questo è l'ingresso, tv, poi là sopra c'è una specie di immobilizzatore, quello che si chiama immobilizzatore qua Poi vabbè, sempre con il mio hashtag HerberC97 Poi, qua la camera da letto E se si va più di qua, c'è un altro spazzietto dove c'è l'armadio, qua con la luge Scrivania, poi una bella masca Da qua c'è la posizione del lavandino Poi, una boccia con il vento proprio giù Che si apre Ed è tutta fatta in distrazione E poi c'è la zona cesso Questo è il mini appettamentino, se si può dire la camera Qua a Shamashake Hola Ciao 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 a tutti i ragazzi qui da Shamashake E oggi andrò a fare la motorata nel deserto come l'anno scorso E così, siamo mercoledì, 3 ottobre, ci sono tipo 35 gradi, 36, 37 E questa è la vita che vorrei per sempre, però non si può Quindi ci stiamo dopo, ciao 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 a tutti, siamo qua al Gran Casinò Al Sinai Gran Casinò Andiamo a puntare un po' di skate Allo Buona Ci harò Abbiamo visto un noto Ciesci Ciao a tutti i ragazzi da Enrique De tare 97 E' finita anche questa vacanza Siamo in aereo dal Shamashole gia Siamo ritornati in Italia E io mi zo fatto anche dopo avermi il regalino si vede un tatuaggio però avrò già messo il video e adesso sto in Italia con il freddo al gelo e noi eravamo qua con 35 gradi e seguitemi RickyDebo97 mettete like e condividete il video ciao al prossimo vlog